Le lavatrici portano sfortuna e i due ciaibur coreani Laje Electronics e Samsung Electronics che si sono beccati dal Trump come avevamo anticipato nell'ottobre 2016 un rialzo delle tariffe doganali del 30-50% per il dumping praticato ai danni dei produttori americani. Ma la sfiga del bucato ha altri precedenti. G nel 2014, alla fiera europea IFA di Berlino si era scatenata tra i due biguna furibondalite con pesanti strascichi per un presunto spionaggio industriale. I rappresentanti della Samsung avevano infatti accusato il capo del settore elettrodomestici di LG, Jusen Jin, di aver furtivamente danneggiato le loro lavatrici per spiarnei segreti. Joe era stato, AIM, video registrato dalle telecamere della security mantra prendeva a calci o comunque tentava di guardare l'interno delle macchine Samsung, dopodiché l'inimicizia era continuata sotto la forma di una guerra segreta e implacabile. Ma con un innegabile merito. Quello di aver gareggiato a colpi di innovazioni da primato. Ed i prezzi sempre più bassi per cosa riuscivano a far sì che i competitor con fabbriche americane e a costi americani sub zero pesanti riduzioni di vendite. Le lavabiancherie in turbolenza la malefica influenza delle lavabiancherie riprendeva il suo corso nel frattempo per C nel 2016. Quando Samsung, G colpita da un'altra sfiga. Quella delle batterie esplosive degli smartphone Galaxy Note 7. Dovette ritirare le sue lavabianche aria per C in piena centrifuga manifestavano movimenti inconsulti e. Turbolenti sino alla bruciatura pericolosa della vasca. Dopodiché, con le lavatrici forse i due big avrebbero dovuto stare più tranquilli e invece no. Proseguivano quello che avevano cominciato sin dal 2010 a fare. Prezzi molto bassi e mercati in subbuglio. E sempre con apparecchi innegabilmente innovativi e super, che portavano via quote di mercato agli americani. Nel 2017 la quota Whirlpool scende 19.7 al 17.3%. Si trattava e si tratta senza alcun dubbio di prezzi cinesi a danno dei competitor americani oltre che dei lavoratori delle fabbriche cinesi. Mal pagati per non dire di peggio. Lavatrice si. Dumping. Dice Trump nel 2011 W. Whirlpool aveva piantato una grana con accuse precise di concorrenza sleale sempre. Per le lavabiancheria davanti all'Aast C. La Commissione Americana per il Commercio. Che poi riconosce solo nel 2016 che si. Si trattava proprio di dumping come Whirlpool aveva scritto. Fornendo le argomentazioni tecniche a Trump per i dazzi. Ma, quello che ha fatto decidere è che il Trump. La USTC. Ad anticipare i pesanti dazzi è stato il lungo gioco a rimpiattino che le aziende coreane avevano condotto. Sin dal 2011. Trasferendo le fabbriche dalla Cina. Poi in Vietnam e poi in Thailandia per dimostrare che il dumping non c'era. Perce non c'era la fabbrica. Cos. In una frenetica attivite di traslochi. Aprivano e chiudevano stabilimenti. Ma i due ciaibur coreani avevano sin dal 2011 capito che si. Preparavano tempi duri e che. Per ingraziarsi le autorità americane. Dovevano aprire qualche fabbrichetta. Anche negli States. LG nel Tennessee e Samsung nella Carolina del Sud. Sempre di lavatrici. Le fabbriche cacciaviti in realtà si tratta del classico caso di fabbriche cacciavite. Cio di aree di montaggio di tools provenienti dall'Asia. Rivelatrici le parole dei portavoce dei big coreani. La decisione di Trump provoca gravi ritardi nelle consegne di pezzi staccati. Hanno dichiarato. Pezzi staccati che con cacciavite e viti si montano in poco tempo. e LG spiazza tutti anticipando di qualche mese l'avvio della produzione della fabbrica prevista nel 2019 e soprattutto aumentando i prezzi di circa 50 dollari per ogni lavabiancheria e asciugabiancheria come rivelava all'inizio di gennaio l'informatissimo Wall Street Journal. Nessun problema di aumento dei prezzi assicurava subito LG in un confidenziale incontro con Il loro retail americano, a riprova che i dazzi trompiani non daranno stravolgenti vantaggi ai competitor. Altro che lavatrici e pannelli solari. A rischio i Boeing dai consiglieri trompiani sono. Come si sa, arrivate anticipazioni precise. Adesso tocca alla proprietà intellettuale, all'acciaio e all'alluminio, colpiti dalla concorrenza cinese, coreana, mondiale, per ora. E con una vittima illustre, l'app Mush si permessa di fabbricare le sue auto in grande spolvero sul mercato americano nel vicino Messico, e poi di una lunga serie di altri prodotti dei quali annotano esperti americani sarduro a portare. Di nuovo la produzione in patria per sono scomparsi da decenni competenze. fabbriche, know-how. In cambio la Cina governa due formidabili armi che provocheranno danni enormi se la furia iconoclasta del Trump dovesse come certo continuare. I Boeing e la soia, tutta transgenica, dei quali la Cina è il primo consumatore e importatore al mondo. Cio. Al posto degli aerei Boeing si sa che pronta a sostituirsi nelle forniture Airbus. Mentre l'enorme quantità di soia transgenica che molti paesi rifiutano giustamente che la Cina importa serve per sfamare gli innumerevoli allevamenti di maiali. Il 50% del totale mondiale. Dei quali i cinesi sono accaniti consumatori. Un disastro economico si abbatterebbe sui farmers americani se la loro soia transgenica è pompata. Non venisse più comprata dai cinesi. Per non parlare dei disastri che stanno oggi provocando i dazi sui pannelli solari non in Cina ma in America. Dove i produttori locali dovranno pagare molto cari componenti. E allora, l'amministrazione Trump ha deliberatamente deciso di applicare da zia i prodotti fabbricati in tutto il mondo. Lo ha scritto per primo il New York Times, ripreso da TV e stampa in tutto il paese. Dal blog La Casa di Paola.